Lavori al porto di Pescara, cosa cambierà? Sì, intanto esprimo grande soddisfazione perché finalmente arrivano dei lavori al porto di Pescara dopo tanti anni in cui il porto ha sofferto per le chiusure, per il lavoro assolutamente deficitario rispetto a quelle che erano le potenzialità. Quindi adesso cominceranno a luglio i lavori per sistemare la banchina, per creare condizioni di vita migliori per i pescatori quindi sicuramente c'è un passaggio importante e per questo ringrazio l'autorità di sistema portuale che ha lavorato sul progetto e la Regione perché ha finanziato attraverso fondi europei questo intervento di oltre 500 mila euro. Un intervento che è significativo perché è il primo di una serie di interventi che verranno fatti sul porto e che permetteranno al nostro porto di diventare finalmente un porto di rilevanza nazionale e internazionale non soltanto a parole ma anche nei fatti perché noi ci accingiamo a realizzare il primo, il secondo e il terzo lotto dei lavori per fare in modo che ci sia la banchina nord collegata con la diga foranea, la banchina sud che modifica il flusso del fiume e lo porta all'esterno dopo la diga foranea e infine il terzo lotto di completamento che creerà il vero porto di Pescara che sarà un porto che potrà ospitare anche navi importanti quindi ci sarà una trasformazione epocale dopo tanti anni di crisi. Che cosa ha fatto il Comune? Il Comune ha fatto un pressing incredibile in questo anno nei confronti dell'autorità portuale, del provveditorato alle opere pubbliche che finalmente si accinge a svuotare la vasca di colmata dove ci sono ancora 200.000 metri cubi di fanghi dal 2011-2012 quindi da tantissimi anni inaccettabile quella situazione perché all'ingresso del porto turistico c'è una montagnola di fanghi da troppi anni e quindi anche quella verrà eliminata. Quindi tanti lavori al porto, tanti lavori per Pescara e io sono molto soddisfatto e molto orgoglioso di dire che finalmente dopo anni di incuria, di ritardi si muovono lavori importanti. Erano già iniziati i lavori sulla diga foranea ma quindi non verrà smantellata completamente? No, la diga foranea è stata, come sappiamo, aperta perché c'è un varco abbastanza ampio e in quel varco, dopo che saranno completati i lavori del primo e del secondo lotto, uscirà direttamente il fiume ma nel contempo il molo, i due moli arriveranno fino alla diga foranea quindi avremo una passeggiata pescarese sul molo fino alla diga foranea in mare aperto credo che sia anche un motivo di attrazione turistica diciamo che c'è la fondata speranza di vedere modificata quella situazione portuale in senso fortemente migliorativo.